San Severino Lucano, protagonista al Cibo su Good Festival dei Sapori d'Italia, un viaggio emozionante e sorprendente nel cuore del bel paese, nato con l'obiettivo di promuovere le molteplici identità che caratterizzano l'Italia e la rendono un paese unico al mondo. A Bologna, San Severino Lucano ha fatto degustare il meglio dei prodotti del territorio del Pollino. Sabato 22 aprile al Salone del Podestà a Palazzo Rehenzo un interessante talk show sul viaggio fra i sapori lungo la ciclovia dell'Appennino alla scoperta del territorio appenninico tra paesaggio, storia, arte, cultura ed enogastronomia in un itinerario entusiasmante lungo 3100 chilometri. Noi siamo al secondo anno di partecipazione a Cibo So Good. Grazie ad un rapporto stabilito con Appennino Bike Tour siamo stati coinvolti. Chiaramente l'obiettivo è quello di proporre i nostri territori sotto i vari profili e di vari aspetti dal punto di vista ambientale, naturalistico e nello stesso tempo di proporre le tipicità agroalimentari dei nostri luoghi. La ciclovia Appennino Bike Tour attraversa il nostro territorio. È una ciclovia che parte praticamente dalla Liguria per raggiungere la Sicilia. Nel nostro territorio del Pollino abbiamo San Severino Lucano, quale tappa del Pollino Lucano della ciclovia. Già da anni si sono verificate presenze di questi ciclisti che per l'appunto raggiungono i nostri territori tra i mesi di luglio e il mese di agosto. Abbiamo sempre organizzato momenti anche ricreativi e di proposta nella fase in cui questi ciclisti sono venuti dalle nostre parti.